Musica Benvenuti, oggi 3 dicembre, il santo del giorno è San Francesco Saverio. Tra i personaggi famosi nati in questo giorno ricordiamo il segretario Pier Ferdinando Casini. Pensiero del giorno, scavando molto in profondità si può anche venire fuori dalla parte opposta. E ora passiamo all'oroscopo. Ben ritrovati cari amici all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, troppo contenuti e riservati in amore, lasciatevi andare con allegria, il rapporto richiede una nuova freschezza. Toro, dovrete pazientare e attendere che i tempi siano maturi prima di apportare quei cambiamenti tanto desiderati. Gemelli, interessi personali e stranei al lavoro vi impediranno di concentrarvi come invece sarebbe opportuno. Cancro, sarete pigri e indifferenti a tutto ciò che accade attorno a voi nell'ambiente di lavoro. Leone, la mattinata vi offre buone possibilità di recupero, cercate di riprendere in mano alcuni impegni. Vergine, in campo professionale dovrete affrontare con coraggio scelte definitive e concrete. Non sarà facile. Bilancia, un forte calo di energia potrebbe spingervi a prendere una giornata di riposo. Scorpione, avete la possibilità di realizzare in giornata un piano di lavoro molto interessante. Sagittario, la vita di tutti i giorni richiede la massima disciplina, lungimiranza nelle finanze. Capricorno, un avvenimento inaspettato e personale vi distoglierà dal lavoro quanto basta per non raggiungere i risultati che speravate. Acquario, sono possibili alcuni cambiamenti, siete abbastanza disinvolti, colloqui e affiatati con le persone care. Pesci, successo nel lavoro creativo e situazione economica rassicurante, sentirete un forte desiderio di prendervi cura di qualcuno. Proverbio, a buon intenditore, poche parole. Questo è tutto per oggi, arrivederci a domani. Grazie a tutti.